È un poker di aperture, quello di Augusto Contract nel nuovo grande centro commerciale Maximo appena inaugurato a Roma. In un contesto molto competitivo, la società marchigiana specializzata come general contractor nella realizzazione di locali per la ristorazione e l'ospitalità ha lavorato a ben quattro format, cioccolati italiani, pizzeria italiana espressa, poke house e hot dog. Noi dopo un 2019 molto importante, di grande sviluppo, di crescita con anche nuovi clienti, avevamo subito ad inizio 2020 questo nuovo centro commerciale Maximo dovevamo subito quattro realizzazioni, due per due brand storici con i quali lavoriamo ormai da diversi anni, cioccolati italiani per il quale abbiamo fatto il 35esimo locale, pie, pizzeria italiana espressa per il quale siamo già al quinto locale, hot dog, un nuovo format di hot dog per il quale questo qua rappresenta il primo locale e la catena di poke house e quindi era un inizio importante per il nostro anno. Poi questo progetto che doveva inizialmente essere concluso ad aprile per le note problematiche di covid ha subito uno slittamento importante, però siamo contenti che alla fine i locali sono stati realizzati credo con soddisfazione e c'è una partenza anche importante per il centro commerciale che ci fa molto piacere insomma. Quattro locali, quattro tipologie di ristorazione completamente diverse, dimostra una notevole flessibilità nella vostra capacità operativa? Noi lavoriamo sul progetto del cliente e su quello andiamo a fare tutte quante le ottimizzazioni, le sottutilizzazioni, quindi partendo da quello che è il loro concept, il loro format andiamo poi a declinarlo, a deficientarlo sulla specifica location, quindi non ci preoccupa trattare materiali diversi, flussi operativi differenti, ci curiamo della realizzazione chiave in mano per questi format e anche a seconda di come il cliente è strutturato possiamo trattare la nostra operatività, ad esempio per cioccolati italiani e poi pizzeria italiana espressa noi abbiamo fatto il general contractor della parte arredamento, quindi fornendo tutto quanto l'arredamento e le attrezzature che poi vengono integrate all'interno dell'arredamento banco e retrobanco, mentre per il format odio dog e per poche house abbiamo proprio fatto il ruolo di general contractor complessivo dove abbiamo curato anche tutte le opere edili e gli impianti e anche le progettazioni impiantistiche, anche interfacciandoci con il pilotage del centro per tutto quanto il processo di approvazione, quindi dando un po' il pacchetto di servizi più ampio che caratterizza la nostra attività come food service general contractor. Diciamo che da qui a fine anno abbiamo altre 5-6 realizzazioni in corso per chiudere il mese di dicembre è già una pianificazione importante per il 2021 dove contiamo di ritornare sui livelli del 2019 sia con i brand con i quali stiamo già lavorando sia con nuovi brand che stanno comunque ripartendo. Grazie.